È un vero fiume di birra, quello che si riverserà sulla Donata Nazionale degli Alpini, in programma a Bolzano dall'11 al 13 del prossimo mese di maggio. Il comitato organizzatore ha infatti concluso un accordo di sponsorizzazione con la prestigiosa Birreria Forst di Lagundo. La firma del contratto si è svolta alla sede della Forst, alla presenza della padrona di casa, la baronessa Margherita Fuchs von Manstein, del presidente dell'ANA Alto Adige Ferdinando Scaffariello, del sindaco di Bolzano Luigi Spagnoli e del commissario dell'evento Sandro Repetto. L'accordo prevede che il logo della Donata sarà impresso sulle lattine della Birreria Forst in un'inedita operazione di co-marketing. Stando a quanto si è verificato nelle ultime edizioni della sfilata, la stima è che nei tre giorni della manifestazione, cui, secondo le previsioni, prenderanno parte 400.000 penne nere da tutto il mondo, verranno consumati non meno di 120.000 litri di birra sponsor. Una nota del comitato organizzatore spiega la grande soddisfazione per essere riusciti a legare all'evento il marchio Forst, un'azienda che, oltre ad essere di proprietà di una famiglia suttirolese, produce da generazioni una birra a cui tutta la popolazione dell'Alto Adige è affettivamente legata. Un marchio simbolo per il territorio, come quello Forst, insomma, non poteva proprio mancare.